Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come installare lo chain su guaritura SRAM 8 bolts. Prima di tutto occorre rimuovere la pedivella dalla vostra bicicletta. Seconda cosa, occorre andare a svitare le otto viti presente sul retro della corona tramite una Torx T20. A questo punto potete rimuovere la corona originale, prendere lo chain su cui è stata installata precedentemente la corona, in questo caso una 34 denti, e andare a inserire lo chain sulla guaritura. E' impossibile sbagliare perché questo standard ha un'unica posizione di fissaggio, quindi lo chain rimarrà perfettamente allineato con la pedivella. A questo punto occorre semplicemente andare a riavvitare le otto viti originali. Ultima cosa, verificate il perfetto funzionamento dello chain prima di installarlo sulla bici. Se avete domande o volete vedere questo componente in azione fatele qui sotto nei commenti e come sempre enjoy your flow. Ciao alla prossima!